La Regione Marche ha espresso al Ministero per le Infrastrutture parere favorevole alla dismissione della linea ferroviaria Fano-Urbino. Su proposta infatti dell'assessore alle infrastrutture viventi, la Giunta regionale ha risposto alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sollecitava una decisione in merito a seguito della rinuncia della concessione di servizio da parte della rete ferroviaria italiana. Abbiamo assecondato le ripetute richieste della provincia di Pesaro e Urbino, ha detto l'assessore viventi. La decisione comunicata al Ministero tiene conto anche del fatto che la rete ferroviaria italiana non è più intenzionata a ripristinare il collegamento ferroviario Fano-Urbino che tra l'altro è soppresso dal 1987 e attualmente viene effettuato un servizio sostitutivo con un'autolinea finanziato dalla Regione Marche. Nel 2010 infatti ricorda la Regione, la provincia ha inviato alla Regione stessa e alla rete ferroviaria la delibera con cui si chiedeva di procedere alla dismissione definitiva e sollecitava la Regione in tal senso anche nel 2011. Per questo l'ente regionale ha contattato la rete ferroviaria italiana per vedere se c'era una possibilità di riattivazione della linea ma non ha trovato nessuna adesione e per questo il suo parere definitivo a favore della chiusura. La linea ferroviaria Fano-Urbino è contraddittoria dopo aver inserito l'infrastruttura nell'accordo di programma tra le priorità infrastrutturali. Oggi la Giunta si rimangia all'impegno e certifica una scelta che ancora una volta favorisce il trasporto su gomma e le lobby adesso collegate. Lo afferma il consigliere regionale del gruppo misto Giancarlo Danna secondo cui poco interessa l'attenzione di diverse associazioni inglesi per un recupero turistico della tratta. La Regione conclude Danna opta per una scelta miope e si nasconde dietro la crisi.